al carbonchi sasso marconi real forte querceta primo squillo dei giallo blu locali dopo quattro minuti con gli a 6 impegnato adornato al dodicesimo dalla parte opposta bellucci recapita il lancio di cintoi serve la mano di auregli per sventare il pericolo entrambi ancora protagonisti al ventiquattresimo sul cross di macabruni si scontrano i due con il portiere che va a colpire l'attaccante lascia correre l'arbitro totaro superata la mezz'ora calcio di punizione di bartolini palla sul fondo dopo una serie di deviazioni due minuti dopo si sblocca il parziale in possesso gli a 6 sulla destra puntarici prima di andare al cross su cui sbuca grasdani che insacca in rete al 35esimo conduce il sasso marconi occorre attendere l'avvio di ripresa per il ripristino della parità sul ribaltamento di fronte splendido lancio di del dotto la sfera è per di paola cinico e opportunista diagonale mancino che batte il portiere e fa uno a uno al quarto d'ora ancora protagonista di paola sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da bartolini calcia bene l'attaccante il portiere risponde grande stile sasso marconi in avanti al 67esimo dalla distanza attenta alla conclusione torelli murato una prima volta 15 riprova in area di rigore ma senza successo sliding door alla mezz'ora semplice contatto tra macabruni e monti l'arbitro fischia indicando il dischetto calcio di rigore nonostante le proteste dagli 11 metri vattorelli che supera adornato per il secondo vantaggio locale ma le polemiche non si placano e a farne le spese cintoi espulso dopo pochi istanti opportunità reale all'ottantacinquesimo cross dalla sinistra del neo entrato la zoni per di paola conclusione su cui si immola in scivolata pedrelli che salva i suoi a meno due dal novantesimo calcio di punizione che chiude i conti sulla deviazione dissaputo arriva il tappo invincente del subentrato bayetti che beffa il portiere e regala la vittoria alla formazione emiliana festeggiata non prima di un'ultima occasione contropiede di bartolini concluso dal tentativo di gargani sul tiro deve volare auregli scaduti 5 di recupero basta così a sasso marconi finisce 3 a 1